Facciamo prima di tutto lo screening con il tampone antigenico rapido a chi non ha già fatto un tampone in farmacia per esempio. Dopo questo facciamo l'STP che è la tessera sanitaria provvisoria e chi vuole fare il vaccino fa il vaccino. Il resto non si fa da noi, si fa la questura, ci pensa la prefettura, la protezione civile eccetera eccetera. In quanti sono già arrivati? Allora in gruppi isolati, che significa 2, 4, 5 insieme, non grandi numeri, grandi squadre organizzate, abbiamo avuto 30-35 profughi, donne e bambini. Sono spesso ricongiungimenti familiari, almeno dalle nostre parti? Diciamo familiari, parenti, amici, conoscenti. Dottore che tipo di situazione sanitaria da un punto di vista del covid avete trovato nelle persone che già si sono sottoposte allo screening? Allora abbiamo avuto qualche positivo sì, in una percentuale però più o meno come quella che abbiamo qua in Italia, forse un pochino di più però il numero non è spaventoso. E il loro atteggiamento con il vaccino? Allora quello che ho visto io qua a Lab erano le donne quasi tutte vaccinate, da noi hanno fatto la dose booster per esempio se non avevano fatto prima, abbiamo fatto qualche prima dose ai minori, cioè quelli che avevano meno di 18 anni. C'è una difficoltà di accettare la vaccinazione per i bambini 5-11 anni ma più o meno è quello che abbiamo noi qua in Italia. Quanta gente ancora vi aspettate? Non lo so, penso che la settimana prossima cominceranno ad arrivare i primi gruppi numerosi.